questa ragazzi è bella questa è veramente bella e questa ve la devo raccontare perché guardate bene cosa dice questa determinazione, fa riferimento in pratica alla costituzione della STS, azienda speciale. Allora l'azienda speciale dice che il 16 ottobre 2014 si è costituita l'azienda speciale del comune di Frascati, denominata azienda speciale STS e molti servizi. A seguito di quanto disposto dalla delibera che regola i rapporti del comune di Frascati e la STS, di cui si è parlato di questi rapporti nella recente conferenza stampa alla quale purtroppo non sono stato invitato. Ogni dirigente ha fatto la sua relazione, come dovete vedere il 25-6-2015, tutti quanti allo stesso giornale hanno fatto, vabbè, no, no, 23-25-25-29-24. Considerando che qualora si verifichi uno squilibrio nel bilancio della suddetta azienda speciale STS, il comune è tenuto ad intervenire mantenendo gli equilibri anche del bilancio aziendale. Che vuol dire questo? Questo vuol dire che forse, forse, immagino, che se nella gestione della STS, della quale, diciamo, signora pressoché tutto, succede qualche contrattempo, il comune interviene e copre il buco. Tanto è vero che eccoci qui, che si rende necessario trasferire la somma stanziata di 100 mila Euro al bilancio dell'azienda speciale STS per il necessario mantenimento degli equilibri di bilancio. E pertanto si determina di bla 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 a mollare 100 mila Euro alla STS azienda speciale. E porca miseria! E così sono capace pure io a fare l'amministratore. E se verifica lo sbilancio arriva il comune e copre. Ma lo sbilancio come si è verificato? Qui vi dico io come va a finire, cosa che avrei voluto chiedere al commissario straordinario, ma ripeto, non mi ha invitato e non ho potuto chiedere. Ma non è che finisce con me la STS-SRL in liquidazione? Che piripim-parapam, ogni anno 8.000, 7.000, 60.000 Euro di utile, poi all'improvviso boom! 3 milioni e 6 di perdita. ci sovviene, ci conforta soltanto un fatto, che dopo le dimissioni di due consiglieri, di due componenti del Consiglio di amministrazione, è rimasto solo il Presidente Ducci e l'amministratore Pari De Pizzi, bravissimo amministratore, ex banchiere della Banca di Credito Cooperativo di Frascati, che verrà, si dice entro breve, assorbita da una banca maggiore causa perdita. Tanti auguri e buon 2017, signori!